Oh, ma troppo caldo oggi! Todd! Summer! Non c'è più acqua per annaffiare l'orto! Le piante stanno tutte appassendo! Ci penso io! Ma non funziona! L'acqua che scorre nei tuoi bibi è l'epompata dallo stagno! Deve esserci qualcosa che non va allo stagno! Andiamo subito a controllare! Altrimenti l'intero raccolto finirà per andare a male! Tutti allo stagno! Amici, guardate! È molto peggio del previsto! Salviamo i pesci! Salto, coniglietto! Che bella rete, Todd! Grazie! È la mia ultima invenzione! L'acqua è troppo bassa! Gli animali non possono vivere in queste condizioni! Oh no! Che cosa possiamo fare? Ricordati, Betty! Per ogni problema esiste una soluzione! Ehi, amici! Guardate qua! Sembra un vecchio sentiero! È il letto di un torrente prosciugato! Questo era il ruscello che portava l'acqua allo stagno! Ma che te ne ha fatto l'acqua? Lo scopriremo insieme! Seguendo il torrente, capiremo l'origine del problema! E riporteremo l'acqua alla fattoria! Andiamo! Dobbiamo sbrigarci! Gli animali dello stagno non resisteranno con questo caldo! Guardate! Il letto del torrente prosegue nel bosco! Segui le avventure dell'allegra fattoria su YouTube!